Ciao a tutti! Oggi video un pochettino diverso dal solito perché volevo fare un video chiacchericcio è un po' di tempo che non ne faccio a parte i vlog e vabbè anche mi preparo con voi ok non è un po' di tempo che non ne faccio però oggi volevo toccare un argomento che a me non piace mai più di tanto trattare perché lo trovo un po' squallido infatti ho messo un titolo volutamente ironico o comunque un titolo volutamente forte perché non è un argomento che sono solita trattare però siccome sotto l'ultimo video haul ho trovato diversi commenti tutti più o meno nello stesso genere ho risposto a tutti mi pare però ci tenevo a fare un video perché penso che se no questa problematica si ripresenterà anche in seguito la domanda e comunque la questione che era stata posta nel commento è relativa al fatto di come si fa a fare shopping senza uno stipendio come sta succedendo a me in questo momento perché sono in aspettativa visto che effettivamente la mia aspettativa durerà ancora un po' o sei mesi o un anno non lo so ancora vi avevo accennato nel vlog in cui ve ne ho parlato sicuramente capiterà di nuovo che farò shopping e penso che questa domanda possa sorgere spontanea perciò mi sento di rispondere senza dovermi giustificare ma giusto per spiegarvi le cose in modo tale da togliere ogni dubbio insomma da chiarire tutte le perplessità che potevano essere sorte quindi come alcuni di voi hanno sottolineato in questo momento non sto lavorando però riesco lo stesso a fare shopping o comunque a mantenere lo stesso stile di vita di prima e la domanda è appunto come faccio a farlo semplicemente sto utilizzando i miei risparmi quindi i soldi che ho accumulato e comunque messo via il mio piccolo gruzzoletto che mi sono accumulata negli anni lavorando perché io lavoro da quando avevo 19 anni non subito sono stata una dipendente a tempo indeterminato però comunque ho sempre lavorato nell'ambito della pubblica amministrazione facendo supplenze, ho fatto spesso doppi lavori, scrivevo per la stampa quindi arrotondavo in quel modo insomma ho sempre lavorato per fortuna mia e infatti questa cosa sono grata al cielo ogni giorno quindi ad oggi sapendo quello che avevo risparmiato e sapendo quello che è il mio stile di vita ho preso una decisione tale per cui non sto andando a lavorare in questo periodo e nonostante quello posso comunque riuscire a vivere bene a riparare la macchina se ce n'è bisogno a riparare o comunque sostituire la lavatrice se si rompe insomma sono riuscita a prendere una serie di decisioni perché sapevo di avere comunque un cuscinetto alle spalle sicuramente questo discorso è opinabile perché qualcuno potrebbe dire ma non è che prima anche se guadagnavi non hai fatto shopping infatti assolutamente no ho sempre fatto shopping però anche per chi avesse voglia di tornare indietro nei video noterà che lo shopping è sempre stato in negozi low cost chi mi segue nei vlog sa che non ho uno stile di vita particolare quindi non sono tutti i giorni da Prada, da Hermès o non so che altro marchio dire comunque non sono lì a fare shopping non vado in viaggio saranno tre anni che non esco dall'Italia se non per andare in Francia che è comunque al di là del monte qua dietro e questa non è una critica per chi lo fa assolutamente anzi ognuno lo sapete che la penso proprio così è libero di fare esattamente quello che vuole nella sua vita perché ognuno ha le sue passioni e quindi tende a coltivare quelle nel mio caso queste non rientrano nelle mie passioni o comunque magari lo shopping super costoso non rientra nelle mie possibilità o anche se ci rientrasse non è una cosa che amo fare quindi non l'ho bene o male mai fatta ho magari due o tre cosine costose che tra l'altro nella maggior parte dei casi mi sono state regalate e quindi hanno un valore ancora più immenso detto questo sto riuscendo a vivere tranquillamente anche sicuramente grazie al progetto che ho deciso di intraprendere con mio fratello che è quello in cui comunque sto mettendo la maggior parte delle energie sia fisiche che economiche e comunque qualche ritorno sta iniziando a arrivare in più da qualche anno per arrotondare ho avuto youtube che non è un mistero vi avevo anche fatto il video quanto guadagno con youtube lo sa ormai chiunque che comunque youtube è una fonte di guadagno per me per arrotondare per altri è una fonte di guadagno effettiva comunque è sicuramente un aiuto in più quindi purtroppo non c'è una strategia particolare per riuscire a fare shopping anche senza avere uno stipendio diciamo che lo sto facendo con lo stipendio che avevo preso e un pochettino con i primi ingaggi o comunque le prime cose che stanno succedendo per il progetto di mio fratello un'altra cosa che sicuramente mi ha aiutata tantissimo è aver avuto da subito la casa di proprietà quindi io sono stata solo 2-3 anni in affitto e tutto il resto del tempo grazie ai miei genitori ho avuto casa mia perciò anche quello mi ha aiutato tantissimo a risparmiare ma credo di avervi già più o meno raccontato tutte queste cose quindi forse per chi mi segue da un po' di tempo tutto questo discorso risulterà noioso però lo sapete non amo parlare di soldi così come non amo fare i conti in tasca agli altri non mi piace tantissimo che vengano fatti a me però ci può stare è giusto chiedere anzi domandare è lecito rispondere a cortesia quindi secondo me non c'era niente di male nel fare questo video anzi è sicuramente un modo in più per condividere qualcosa della mia vita e comunque spiegarvi come la penso io diciamo che per quanto mi riguarda non ho mai dato fondamentale importanza ai soldi ma è facile anche dire queste frasi perché come si suol dire è facile fare filosofia a stomaco pieno quindi sicuramente dire così è un po' una frase banale ci tenevo a fare questo video anche per assicurarvi che quando ho preso la decisione ho deciso di rimanere a casa in aspettativa l'ho fatto perché sapevo benissimo a cosa andavo incontro sapevo di poter comunque fronteggiare tutte le cose della vita e poi ho avuto anche l'appoggio di bazo che adesso vive qua con me e quindi sicuramente è un ulteriore aiuto in più che può eventualmente darmi una mano se ci fossero dei problemi o delle carenze a cui io non riuscirò ad arrivare trovo che questo sia quasi difficile che succeda perché comunque essendo una persona molto con i piedi per terra e sono una persona molto metodica ho fatto 10.000 milioni di calcoli prima di prendere questa decisione ma proprio anche di calcoli matematici e ho veramente valutato vagliato tutte le opzioni tutto cioè ho messo in conto qualunque cosa qualunque calamità potesse accadermi e dovrei farcela tranquillamente almeno per sei mesi un anno poi oh magari lo shopping dovrà diminuire perché non riuscirò a far fronte alle spese oppure magari lo vedrete aumentare io quello non ne ho idea non so come andrà il progetto non so come andranno le cose però ad oggi sicuramente nonostante non abbia uno stipendio sono così felice di poter inseguire una cosa che avevo voglia di fare e che sognavo di fare che davvero i soldi in questo momento sono l'ultimo dei miei problemi anche dovessi stare un anno senza fare shopping non sarebbe importante cioè non è quella la cosa principale della vita che poi magari effettivamente dai video possa trasparire quell'aspetto piuttosto che altri ci sta ma anche perché a me piace condividere mi piace farvi vedere cosa compro e leggere sotto cosa mi consigliate gli abbinamenti eccetera quindi magari i video hall li faccio spesso anche per quel motivo però non è assolutamente tutto e non tutto ruota intorno ne allo shopping ma nemmeno i soldi per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia vita però mi rendo assolutamente conto che ci siano un sacco di persone che invece la pensano in modo diverso dal mio e sono opinioni io rispetto le opinioni di tutti perché secondo me vale sempre il detto vivi e lascia vivere mi sta che come al solito sto parlando un po' troppo perché si è già scaricata la batteria della videocamera per fortuna avevo quella di riserva carica quindi come vi stavo dicendo io non do così tanta importanza ai soldi in rapporto invece al fatto che comunque sto realizzando sto provando a realizzare qualcosa che davvero mi piace qualcosa che davvero mi appassiona e che spero che poi ovviamente si trasformi in un lavoro e quindi sia remunerativo come lo è quello che faccio diciamo stipendiato in regione anzi diciamo che da liberi professionisti si spera che un lavoro diventi ancora più remunerativo ma non sarebbe tanto per i soldi in sé ma proprio per la soddisfazione di dire ecco io e mio fratello siamo riusciti a costruirci quello che abbiamo sempre voluto costruire sarebbe proprio una gratificazione personale piuttosto che una mera gratificazione economica che comunque assolutamente nessuno ci sputa sopra però è irrisoria rispetto proprio al fatto di dire io ho realizzato qualcosa che davvero volevo realizzare qualcosa in cui credevo io in generale mi sento una persona molto fortunata ma non tanto per il fatto che ho potuto negli anni lavorare quindi mettermi da parte i soldi o per queste cose qui mi sento fortunata perché comunque ho sempre avuto il sostegno l'appoggio delle persone a cui voglio bene della mia famiglia, dei miei amici adesso ho anche il sostegno di baso da un po' di mesi ormai quindi insomma mi sento fortunata di quello e non tanto del fatto di essere riuscita magari a prendermi un annetto sabatico per cercare di inseguire un sogno per carità anche di quello sono contentissima però non per l'aspetto economico è questo che voglio cercare di far trasparire non mi interessa la questione dei soldi o il fatto di poter non poter fare shopping il fatto di dover o non dover andare a lavorare la mattina anche perché il mio lavoro mi è sempre piaciuto è normale però che quando si arriva a un certo punto della vita si voglia magari realizzare qualcosa di più perché sai che dopo un po' diventa davvero troppo tardi per riuscirci oddio non è mai troppo tardi però magari uno ha anche dei progetti a livello di famiglia quindi dice se non lo faccio adesso che ancora non ho figli poi mi diventa più difficile se oggi domani ho un bambino o una bambina comunque riuscire a non andare a lavorare per inseguire i miei sogni a quel punto tutte le mie energie dovranno essere concentrati su quello e non di sicuro sui miei sogni eccetera e niente questo era quello che volevo dirvi per quanto riguarda appunto lo shopping e più in generale per quanto riguarda il discorso soldi il discorso aspettativa e tutte le cose e le perplessità che sono emerse nei commenti spero di aver spiegato le cose nel migliore dei modi ovviamente se ci fosse qualcosa qualche alta perplessità qualcosa che non vi è chiaro fatemelo sapere con un commento io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao